L'Associazione Culturale Italia e Latino America lo scorso gennaio ha fatto uno spettacolo grazie al contributo di molti con il patrocinio del Ministero della Cultura al Teatro Verde di Padova, uno spettacolo che ha avuto un grandissimo successo, infatti si è registrato il tutto esaurito con la Sony Passion, con Latin Ensemble Hall, che è stata diretta dal Maestro Bassisi. Quest'anno ripetiamo lo spettacolo il 7 di gennaio, sempre al Teatro Verde di Padova, quindi è un invito che allargo a tutti voi. Sciusciata, è una ciarda composta dal Maestro Atos Bassisi, qui seguirà Besame Muccio di Velazquez Consuelo, quindi andiamo in Messico, e l'istoria di un amor di Carlos Almaraz, quindi andiamo a Panama. Con questa canzone, con Besame Muccio, è storia di un amor, sentiremo il Maestro Bassisi che si esibirà con il sax, non è certamente Gatto Barbieri dell'ultimo tango a Parigi, ma mi dirà lui solamente perché era troppo piccolo. Buonasera. Grazie a tutti. A presto. 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 A presto.